sono passati 22 anni da quando maria grazia cutuli è stata assassinata in afghanistan oramai è una generazione fa le prime a battere le notizie erano le agenzie di stampa internet era limitato dai paesi lontani ci si collegava con un apparecchio satellitare ingombrante gli articoli si inviavano in redazione attraverso un farraginoso collegamento telefonico eppure la sostanza era la stessa leggo l'attacco dell'ultimo memorabile reportage gas sarin la scritta in caratteri cirillici appare su un'etichetta rossa incollata su una scatola di cartone dalla confezione spuntano 20 fialette di vetro simili a piccoli termometri riempite di un liquido giallo e pastoso è stata trovata dal corriere della sera e dal quotidiano e il mondo dentro uno dei più grandi campi di osama bin laden in afghanistan una base abbandonata dopo la frettolosa ritirata dei talebani da jalalabad maria grazia assieme al collega spagnolo che sarebbe poi stato ucciso con lei julio fuentes era riuscita a trovare un deposito di gas nervino un'arma letale raccogliendo le informazioni necessarie per documentarlo un racconto semplice ma di rilevanza internazionale sono passati gli anni e forse una generazione i talebani hanno ripreso l'afghanistan anche grazie a una martellante campagna sui social media le notizie arrivano sovrapposte e ridondanti da ogni fronte quelle vere si mescolano alle false le immagini risultano ritoccate i video forvianti il lavoro di giornalista conta oggi su strumenti più veloci ma risulta anche molto più complicato in questo groviglio di voci e messaggi a maggior ragione allora per noi che a ogni anniversario ci ostiniamo a ricordare la nostra amica e collega il faro resta quel reportage sul gas sarin andare capire districare il gomitolo riportare l'essenziale e che lo spirito testardo di Mary Grace ci accompagni sempre